E bello a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi siamo qui con un video di Fortnite, tanto per cambiare, ma siamo in arenella Questo perché come sapete è iniziata la nuova season e dobbiamo ripusciare la Lega Campioni come ogni inizio season Quindi oggi siamo qui con una bella scalata in arena Perdonatemi ragazzi per la voce e per l'aspetto però purtroppo mi sono influenzata da tipo 3-4 giorni Dove ho avuto un mal di gola, mal di schiena, raffreddore, quasi febbre insomma Chi più ne mette insomma sto male, ma non posso lasciarvi senza video Quindi anche da malaticcia sono qua registri video per voi Quindi solo per questo ragazzi un pollicione in su e iscrivetevi al canale E utilizzate il codice creatore con l'automist nello shop di Fortnite Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay Vi auguro una buona visione Vediamo il gioco prima per due secondi Ah pensavo adesso No cioè ora Quando sono scesa Ok Ma tantissimo Mi è scesa 9 FPS Dimmi se non si blocca così Cioè questa prende il leva Ah no ma è ingiocabile Ero così tranquilla e no build io Non capisco Ho leva verde Sono soddisfatta 100 di shield E io ho un problemino I am happy Raga manca voi lag l'arena No uno col cecchino Ma da dove? Da qua Pure Oh mio dio mi vengo a piangere Sono sotto da me due Ha la pistola se non era il cecchino Non so se altro Ok gli altri che potrebbero arrivare Bravissima Quindi le boots sono così Carini Ci stanno Un po' più riparati Eccomi Sto arrivato Sto arrivato Aspett Vado a fettarli eh Eh Sì io Morto no Full full box Morti Ho trovato una chiave Quante chiave Mamma mia Questa chiave è proprio sfondated Comunque il leva E la 9 smg Sono una combo Veramente fuori di testa Lo vedo Finchia Eh vabbè Ti ho sparato Vieni qua Fatti questi Da me Sfondato Morto Morto Mia di nuovo rifrizzate il gioco Vabbè Vuoi prendere il cavo? Dove sta? Rifrizzato Cristo Prendi il pad E vieni Che fastidio Devo metterla a chiave anch'io? No Puoi andare a prendere un altro In caso Vabbè Io avrò con te E mi rubo anche una cassa No no Per me è abbastanza fluido No 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 A me va arriva 9 fps si frizza Guarda cosa c'è Ok Qua c'è un cecchino Alla per te E se mi ci si è iniziata Che io ti sconsiglio Perché secondo me fa vomitare Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Te l'ho ciotto anche Prendo le cure Faccio così Voi sono apposto così Ho tutto Mi nuova Nel mio box Fatto No Mi fa fai dare così Indicente Oddio Io ho sparato Non Sei di danno Attenzione Sei di danno Sono in termine bush Matto una Morto 28 C'è la pedana qua Non prenderla Vieni Vieni qua da me No no ma Ma vabbè Adesso è andato Andiamo No 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 Non è vero Aspetta 32 white Non gli sparo Qui l'Elisabetta No ci sono C'è l'Elisabetta Capito che ne posso Morto no Potrebbe essere un'altra pellevinzola Che voleva buttare anche lui Alla riscossa con le cechinate Ma la cosa è già Ok Cos'è la riscossa con i cecchini Ora metteremo Alla prova Giorgina ragazzi Il primo player che becco Ai tre tentativi E prendo gli Nelshot Se lo prendi Nelshot No dai Se lo prendi Nelshot Esco i pd live Se lo prendi Nelshot Esco i pd live Vai c'è ancora lì Vai E' lì che sta saltando Non sparo Guarda non sparo Ti la vuoi il ping Noccato Andiamo Me l'ho preso in head Certo Se lo prendi Nelshot Esco i pd live Brava Eh ma dobbiamo sparargli Se no lo resta Non mi interessa Pensa a lui Spare che se lo resta Sta restando Non l'ho restato Non l'ho restato Nihono dietro da me Morto Distrutto Prima mi sono fatto A clappare Io purtroppo Io purtroppo Mi sono dovuto fermare Perché questo qua Mi è venuto dietro L'ho restato No 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 Vabbè ma se se mi è giro E' broccata madonna L'OG mitico però Cosa? L'OG mitico Come l'OG mitico? Era lì dietro Era lì dietro E' veramente? E' qua dentro Ma non è mitico E' che c'erano le lucine del coso Che mi faceva sembrare fosse mitico In realtà è la cosa Eccolo lì No qua Quanti sono rimasti Due V1 V1 Ok Beccato tutto qua T'ha fermato Perché ti giuro Ti facevamo Ottimo Occhio a destra Eh ma po' ho fermato Io non potevo fare nulla Cioè ma Eh non c'è Dai le armi scadono Mi stai ritornando questa melma però Merde le armi scadono C'è anche a destra Ahi si Ahi si Ahi si Ahi si Beh è quello che si merita Per essere stato uno stronzo No? Ok Buona 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 sera Buona sera E la winna così Eh mi sei frizzato di nuovo Cioè così nel chilling Con tutto che mi stava laggando Peggio della merda Peggio della merda Mi stava laggando Eccoci qua ragazzi Siamo giù dal termine di questo video Io spero che vi sia piaciuto Anche perché abbiamo fatto Una bellissima vittoria reale In arena Che peraltro ragazzi Ovviamente questo video L'ho registrato il primo giorno di season Quindi attualmente Mi trovo già più o meno Sui 6.000 punti arena Quindi molto molto vicino Alla lega campioni Ma spero che ovviamente Che questa vittoria reale Vi sia piaciuta E se dovesse essere così E non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like A questo video E fatemi sapere qui sotto Agli commenti Cosa ne pensate Della season Quindi ragazzoni Dalla vostra Corazio Mist è tutto Noi ovviamente ci rivecchiamo In un prossimo video Bella a tutti ragazzi